Oh, toh guarda, chi si rivede eh? Sì, lo so, sono stato inattivo negli ultimi due mesi, ma diciamo che sono stati due mesi di stop non del tutto voluti. Ma non importa, perché oggi mettiamo la parola fine a questo stop. Oh no. Siamo già in vetta. Dai, che si fiammossetti. Guarda che brutta gente che mi porta a dire. Di 19.23 partiamo per le 52 gallerie. Papo mi sono scavigliato. Bravo, ti asso qua. Mi sono venuto a casa. Monte, adesso qua. Vediamo quanto tempo che mi mettiamo arriva su e soprattutto se arriviamo a catare il papaverto e poi la birra. Se vediamo lungo la strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' qua. Entriamo nella diciannovesima galleria, lunghezza 313 metri. E' che fresco. Questo qua è il sasso dove io mi fermo sempre a far pausa. E oggi non sarà da meno. Ora sono il sasso. Siamo a metà. Galleria 26. La zela Napoli. Metri 24. Questa è la vostra foto. Questa è la vostra foto. Punto più alto di galleria, tra la 48 e la 49. Non si vede niente. Da qui è tutta discesa, fino a 1928 metri, dove c'è il rifugio Achille Papa. Sì, sta a barone che deve prima recuperarti. Sì, diciamo che qua c'è il sentiero, lì non c'è più. Niente. Si verrà niente, ma lì, lì, ci sono delle luci. E quello è il rifugio Achille Papa. Nelmeria 51. Nelmeria 51. Arrivati. 9.17. Sono 2 o 1 ora e 54 minuti. New record. New personal record. Senza allenamento. Spettacolo. Targa. Ah, sì. Birre. 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 Birre ha fatto. Adesso torniamo in zoo. Scarubi e scursoli. Ma a me, senti che profumo di torta alle mele. Sì, cos'è? Prostata. Sì, che roba. Sì, buonissima. Prendiamo qui, Arturo. Non ho capito che c'è la luce. Cosa fa? No, no. Fa un cazzo di luce la tua. Ma che roba. Adesso, insomma, giù. Fili accese. Non si vedrà niente dalla telecamera. Quindi nebbia spianati. Esatto. Quindi mi sa che registrerò poco. Se vediamo la macchina, se mi ricorda registrare, se no, contorno a casa. Cazzo. Posso sapere come va a finire. Buon dai. Tornati. È la partenza. Altro giro, altra corsa, no, Daniele? No, altra corsa. Altro giro, dai, nemmo. No, nemmo casa, siamo finiti. Nemmo a casa, va. Buon dai. Arriva la macchina anche stasera. Sani e salvi e vedi. Alla fine. Alla prossima, se vediamo, è con questa scena un po' spettrale. Ci vediamo, Gianni. Ciao, belli. Ciao. 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 Ciao.